E' ufficialmente indagato il conducente dell'Audi A3 coinvolta nell'incidente di martedì scorso in cui un autobus tua a carico di studenti e pendolari è uscito dalla carreggiata sulla strada provinciale per Caprara. Secondo alcuni testimoni oculari, il guidatore della vettura, un imprenditore 38enne di spoltore, si sarebbe allargato in una curva invadendo la corsia opposta su cui transitava l'autobus col pendolo lateralmente. A seguito dell'impatto, il mezzo carico di persone è stato sbalzato fuoristrada e si è scontrato con un albero. Per le ferite riportate, una ragazza 17enne di Pianella ha subito l'amputazione del piede. Oltre alla studentessa, altre 29 persone sono rimaste lievemente ferite. I reati contestati al guidatore dell'Audi, quindi, sono quelli di lesioni gravissime per quanto riguarda il danno riportato dalla 17enne e di lesioni personali multiple per gli altri passeggeri del mezzo pubblico. Probabilmente l'auto sfrecciava una velocità troppo elevata per quella strada angusta, ma le indagini sono ancora all'inizio. Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire le dinamiche dei fatti.